Solo guardando il crocifisso possiamo capire il mistero di Dio annientatosi per amore dell'uomo. Così il Papa, celebrando la messa mattutina a casa Santa Marta, Francesco, ripercorrendo la liturgia odierna, ha ricordato l'immagine del serpente. In particolare ha messo in luce che, come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque creda in lui sia salvato, perché il serpente è simbolo del peccato ma anche serpente che salva. Questo, ha aggiunto, è il mistero di Cristo. Giovanni ha proseguito alla fine della Bibbia, ci dice il nome del serpente, Satana. Il peccato è l'opera di Satana. E Gesù vince Satana facendosi peccato e di là innalza tutti noi. Il crocifisso non è un'ornamentazione. Non è un'opera d'arte con tante pietre preziose, come si vedono. Il crocifisso è il mistero dell'annientamento di Dio per amore. E' quel serpente che profetizza nel deserto la salvezza. innalzato. E chiunque lo guarda viene guarito. E questo non è stato fatto con la bacchetta magica di un Dio che che fa le cose. è stato fatto con la sofferenza del Figlio dell'uomo. Con la sofferenza di Gesù Cristo.